Non ho un buon presentimento. Il tuo istinto ti serve bene, Obi-Wan, ma non lasciare che offuschi la tua ragione. Qual è il tuo piano, Qui-Gon? Quando il vicere della Federazione dei Mercanti arriverà, dobbiamo convincerlo ad abbandonare il sistema. Se ne andranno senza fare storie? I vicere sono codardi. Questo incontro sarà molto breve. Tieniti comunque pronto per l'imprevisto. Benvenuti. Io sono TC14, droide di protocollo, e servo la Federazione dei Mercanti. Come posso esservi utile? Dov'è il vicere della Federazione dei Mercanti? Il vicere si scusa per il ritardo. Sarà da voi fra breve. Vi prego, accomodatevi qui finché non arriva. Cosa è quel gas che esce dal pavimento? Si tratta di vapore in eccesso, che viene dall'impianto di ventilazione difettoso. Mi scuso per l'inconveniente. Scusa, devo andare. La stanza si riempie di gas velenoso. Dobbiamo fuggire. Pare che la Federazione dei Mercanti si prepari ad attaccare Naboo. Se raggiungiamo l'hangar, possiamo trovare un modo per fuggire. Trova un modo per aprire la porta. Presto! La porta è aperta. Andiamo. La scelta sta a te, mio allievo Padawan. Non mi danneggiate. Eseguo solo degli ordini. Dov'è il vicere? Credo che il vicere si trovi nel centro di controllo al termine di questo corridoio. Cosa... Due Jedi hanno abbordato la nave. Ho liberato i droidi distruttori per fermare gli intrusi. Sto alterando i tuoi ordini. Accetto ordini solo da Newt Garay e Rioneaco. Dobbiamo andarcene da questa nave e avvertire i Naboo. Ci dovrebbe essere un pannello di controllo che apre questa porta. La porta è aperta. Andiamo. Il centro di comando della nave è qui davanti. Siamo in minoranza. Seguimi. Non possiamo sconfiggere quei droidi. Dobbiamo fuggire. Se raggiungiamo l'hangar, possiamo trovare un modo per fuggire. Siamo in minoranza. Siamo in minoranza. Siamo in minoranza. Sparate per uccidere! Uccidete gli Jedi! Sparate per uccidere! Sparate per uccidere! Uccidete gli Jedi! Sparate per uccidere! Sparate per uccidere! Sparate per uccidere! Sparate per uccidere! Non mi uccidere! Questa invasione non è una mia idea! Cosa fai qui? Sto monitorando i generatori d'energia dell'hangar. Come posso raggiungere l'hangar? È oltre la porta rossa di sicurezza. Ma non l'aprirai mai finché la sua fonte di energia è attiva. Devo riuscire a togliere l'alimentazione alla porta. No! Non toccare il generatore! Non mi uccidere! Non mi uccidere! Non mi uccidere! Non mi uccidere! Sparate per uccidere! Non mi uccidere! Siete entrati in un'area riservata Dovete essere eliminati Siete entrati in un'area riservata Dovete essere eliminati Obi-Wan Obi-Wan I trasporti truppe stanno partendo per Naboo Scivola dentro, ci rivedremo sul pianeta Siete entrati in un'area riservata Dovete essere eliminati Siete entrati in un'area riservata Siete entrati in un'area riservata Grazie a tutti. 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 Questa parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.